Il 2 maggio in Etiopia si festeggia la Pasqua Copta, un paese l'Etiopia fortemente legato alla vita religiosa. La Pasqua è preceduta da una cinquantina di giorni di digiuno durante i quali non si possono mangiare derivati animali, il tzom. Ricordo bene il caos del sabato ammarcato. Tutti comprano capre e mucche per la grande festa della domenica. In questa foto la donna prega davanti al muro sacro della chiesa di Maria di Sion ad Axum. Lo fa di notte durante la veglia, un momento magico. Non credo che quest'anno sarà una Pasqua gioiosa per questo paese, ma mi auguro tornino presto, giorni così, giorni di festa.